ciao a tutti e benvenuti su azalea channel oggi vi porto un altro video in cui vi mostro un'altra mod molto carina che ho trovato in giro questa mod aggiunge quelle che vengono chiamate attività sociali e adesso vi faccio un po vedere come funziona questa mod in vivo e poi alla fine vi faccio vedere anche dove e come scaricarla se piace anche a voi si tappa sempre di una mod molto piccolina che fa però delle aggiunte che a me sono piaciute molto e che rendono il gioco un po più ricco e realistico quindi non è una mod che sconvolge il gioco perché come vi ho detto anche l'altra volta non mi piacciono troppo le mode di questo tipo ma aggiunge delle chicche veramente carine allora se voi aggiungete questa mod che cosa succede praticamente andando sul cellulare si aggiunge una nuova iconcina che è questa qua vedete chiamata appunto attività sociali quindi noi cliccandoci abbiamo un menu a tendina dove vedete abbiamo queste possibilità altre attività attività sociali attività per gli animali attività per bebè e vacanze quindi come funziona andiamo a scoprirne una per una altre attività ci apre una lista di cose che possiamo fare come mostra d'arte visita una mostra d'arte e scopri di più sulla pittura fotografia e altro possiamo andare al circo vai al circo e divertiti con i clown e costa anche quindi ci si mollono per sim quindi paghiamo il biglietto quindi è davvero molto realistica come cosa possiamo partecipare ad un corso con concorso di cucina partecipa ad un concorso di cucina e scopri di più su cucina cottura ecco con un po di fortuna puoi persino vincere ottimi premi possiamo andare al gruppo di lettura incontro del libro vai al gruppo di libri e leggi i tuoi libri preferiti possiamo andare ad un concerto vai ad un concerto di musica e guarda la tua star preferita esibirsi sul palco in questo caso costa il biglietto ben 80 simoleon per sim possiamo andare al museo della tecnologia visita al museo della tecnologia e scopri di più su tecnologia aliena astronavi e altro ancora il biglietto costa 10 simoleon per sim viaggio escursionistico questo non è stato tradotto alla descrizione non so perché comunque diciamo che possiamo andare a fare un'escursione in mezzo alla natura e poi la chiesa quindi va in chiesa per pregare e incontrare altri membri della comunità intanto vi dico che comunque si tratta di attività rabbit hole quindi quando scegliamo l'attività da far fare al sim il sim sparisce come quando va ad esempio al lavoro e ricompare dopo qualche ora però la cosa carina è che dopo che torna compaiono dei mood relativi all'attività che ha fatto ma soprattutto in base all'attività che scegliamo di far fare intanto che il sim sparisce in quel periodo di tempo aumenta un po anche alcune abilità ad esempio se lo mandiamo alla mostra d'arte vedrete che aumenterà un pochino l'abilità ad esempio di pittura o di fotografia se andiamo al concorso di cucina aumenta un po di più l'abilità di cucina quindi è una cosa anche utile perché noi mandiamo il sim che sparisce per conto suo però intanto aumenta anche abilità quindi in base a quello che vogliamo fare aumentare scegliamo l'attività da fargli fare e vi faccio l'esempio andiamo tipo a una mostra d'arte quindi mandiamo lei alla mostra e possiamo scegliere anche se andare con un altro sim della nostra famiglia o con gli amici per dire adesso la mandiamo da sola ma possiamo farlo fare la cosa anche in compagnia vedete che lei è sparita e qui ha comparsa l'iconcina che sta alla mostra d'arte quindi tra un po' tornerà e vedrete che avrà un mood relativo quindi vedete che sono delle aggiunte molto carine secondo me che arricchiscono davvero il gioco poi vi faccio vedere le altre attività quindi tornando qua sul telefono andiamo sulla nuova iconcina aggiunta eccola qui adesso vediamo attività sociali ecco qua tra le attività sociali abbiamo queste quattro scelte possiamo visitare gli amici, vai a visitare gli amici, fai i compiti insieme o divertiti visita i membri della famiglia, vai a visitare i membri della famiglia è sempre bello avere un po' di tempo per stare insieme alla famiglia quindi se voi avete più famiglie che sono imparentate tra loro è carina questa cosa tipo ad esempio i bambini possono andare a trovare magari i nonni che abitano in un'altra casa visita i conoscenti, vai a visitare i conoscenti questa è una buona opportunità per fare più amici e poi vai all'appuntamento vai ad un appuntamento a buon divertimento con la persona amata ovviamente si tratta dell'appuntamento sempre rabbit hole quindi non è l'appuntamento quello con gli obiettivi che abbiamo già nel gioco è una cosa in più quindi anche questo si tratta appunto di attività sempre rabbit hole quindi il sim sparisce e torna dopo un po' sempre con un mood relativo a quello che ha fatto e in questo caso vi aumenta la relazione con determinati sim quindi se andiamo a far visita ai conoscenti ad esempio ce lo mandiamo e ecco qua possiamo scegliere di far visita ad esempio a Jay Golden che è un amico di famiglia che succede? che quindi adesso lui sparirà per un po' di tempo perché va appunto a casa di Jay e quando torna avrà la relazione di amicizia un po' aumentata con Jay con lui quindi in questo caso ci aumentano le relazioni con determinati sim è una cosa molto carina anche questa poi vi faccio vedere anche le altre due cosettine che ci mancava adesso aspettiamo un attimo che loro tornano così vi faccio vedere i mood relativi che compaiono ecco qua sono tornati entrambi vedete che cosa è successo? lei era andata alla mostra d'arte e infatti quando è tornata ha acquisito l'abilità di pittura ha acquisito anche l'abilità di fotografia di manualità e tante belle cose quindi come vedete queste attività sono anche utili per permettere di aumentare alcune abilità vedete che lei ha questo mood guardate che carino mostra d'arte sono stata benissimo visitando l'esposizione d'arte il museo accoglie opere d'arte comunitarie e internazionali mostrando che a volte anche se non sempre il buon gusto si colloca sul muro e invece lui che era andato a trovare il conoscente vedete che è comparso il mood relativo ecco qua questo qua mi sono divertito perché è stato un buon momento per visitare gli amici stare con gli amici è piacevole per tutti il più delle volte e se andiamo a vedere lui avrà una relazione di amicizia un pochino aumentata con Jay che era andato appunto a trovarlo quindi vedete come sono carine queste aggiunte poi vi faccio vedere anche le altre cose c'è la possibilità anche di far fare attività agli animali quindi guardate qua quante ne abbiamo quante possibilità possiamo scegliere possiamo mandarlo possiamo mandare un animale dal pet sitter per 4 ore, per 8 ore, per 12 ore e in relazione a quante ore vogliamo fare ovviamente ci costerà un tot manda dal pet sitter per 4 ore inviato i animali dal pet sitter si divertiranno molto e incontreranno altri animali domestici quindi noi possiamo scegliere di mandare il nostro cane o il nostro gatto per queste tottore quindi sparirà anche lui in un rabbit hole come abbiamo visto fare adesso per i sim e quando torna avrà in questo caso conosciuto nuovi animali avrà fatto amicizia si sarà divertito oppure abbiamo quest'ultima cosa che è relativa però ai cani e basta per i gatti non possiamo farlo possiamo mandare il nostro cane dall'addestratore di cani inviato cane dall'addestratore di cani per imparare nuovi trucchi puoi andare con loro se vuoi imparare le abilità di allenamento e questo ve lo faccio vedere come funziona quindi scegliamo il nostro cagnone e quasi quasi io lo mando insieme a lui vuoi partecipare alla sessione di addestramento del cane? gli diciamo di sì e adesso vedete che lui e il cane che sta arrivando eccolo qua spariscono per un po' di tempo e quando tornano che succede? che praticamente il sim avrà un po' aumentato l'abilità di addestramento del cane il cane avrà imparato qualche nuovo trucchettino ecco qua sono tornati poi vi faccio vedere che possiamo fare qualcosa di simile anche con i bebè quindi andiamo di nuovo sempre sul telefono ecco qua attività per bebè possiamo scegliere di mandare all'asilo per 2 ore per 4 ore per 6 ore per 8 ore o per 10 ore e costa 10 euro all'ora quindi se mandiamo il bebè all'asilo per 10 ore ci costerà 100 simoleon e la cosa carina è che intanto che i bambini e i bebè andranno all'asilo impareranno anche loro alcune abilità quindi quando torneranno avranno aumentato alcune abilità tipo quella di immaginazione del vasino eccetera eccetera cioè le abilità appunto relative ai bebè ecco qua ci sta andando tutta bella tranquilla e da sola quindi sparirà per qualche ora e tornerà dopo con alcune abilità aumentate quindi anche questa è una cosa molto comoda e soprattutto utile perché se magari i genitori hanno da fare qualcosa che lavorano oppure vogliono uscire per andare a fare qualcosa possono mandare il loro bebè all'asilo e quando tornano trovano che il bebè ha alcune abilità aumentate quindi non è affatto male come cosa e infine resta l'ultima attività da farvi vedere ovvero le vacanze noi possiamo andare in vacanza facendo una mini vacanza di due giorni vai da solo o porta con te la tua famiglia e i tuoi amici e poi questa cosa molto carina la luna di miele vai in luna di miele e trascorri una giornata da solo con tua moglie o marito quindi magari dopo che due sim si sono sposati possiamo fargli fare una vacanzina di un paio di giorni ragazzi si tratta sempre anche in questo caso di rabbit hole quindi noi possiamo scegliere di fare una mini vacanza con in questo caso che ne so magari portiamo tipo il bambino con noi e che succede che loro adesso spariranno in un rabbit hole e torneranno tra due giorni con i relativi mood positivi eccetera eccetera quindi noi non possiamo seguirli in vacanza ovviamente ma si tratta di una cosa così fittizia immaginaria però secondo me è molto carino da fare cioè se poi vogliamo andare proprio in vacanza dobbiamo avere i relativi pack quindi tipo gita all'aria aperta selva dorata eccetera questa è la mood è una cosa a parte mi sono immaginata che questa cosa della vacanza può essere carino se voi ad esempio avete magari un sim adolescente in casa potete mandare in vacanza i genitori per un paio di giorni così avete praticamente la casa libera quindi i genitori se ne vanno in vacanza per due giorni e il sim adolescente per due giorni può starsene da solo a casa a organizzare feste o cose di questo tipo e adesso vi faccio vedere l'ultima cosa carina di questa mood che potete fare se avete anche l'espansione stagioni allora la cosa che vi ho fatto vedere adesso quindi le attività queste qua aggiunte tramite telefono le potete fare tranquillamente anche se avete soltanto il gioco base se però in più avete anche l'espansione di stagioni andando sul calendario avete in più una cosa molto carina ovvero si aggiungono alcune tradizioni quindi se noi vogliamo creare una festività guardate che tra le tradizioni che avevamo già a disposizione con il gioco se ne sono aggiunte alcune relative alla mod ad esempio questa qua attività per i bebè oppure adesso ve le faccio vedere tutte ecco qua la chiesa il circo il concorso di cucina vediamo che altro che altro che altro il gruppo di lettura incontro del libro poi la mostra d'arte il museo della tecnologia e poi e poi vediamo vai a un concerto viaggio escursionistico visita agli amici visita ai conoscenti visita ai membri della famiglia quindi tutte quelle attività che abbiamo visto sul telefono possiamo metterle anche come tradizione quindi ad esempio io con una mia famiglia personale ho creato un giorno a settimana in cui vado a fare questa cosa il gruppo di lettura e incontro del libro quindi praticamente che succede che quel giorno io per completare la festività devo andare a fare l'attività del gruppo di lettura e incontro del libro quindi è una cosa veramente carina perché se avete anche stagioni vi aggiunge delle nuove tradizioni e ragazzi questa era la mod spero vi sia piaciuta e fatemi sapere nei commenti se la conoscevate se vi piace se pensate poi di scaricarla anche voi e a questo riguardo adesso vi faccio vedere dove e come poter scaricare questa mod intanto per chi non lo sapesse per attivare le mod quindi per fare in modo che vi funzioni in un gioco dovete andare prima su opzioni di gioco andate poi su altro qua e dovete mettere la spunta qui su attiva il contenuto personalizzato e le mod e mod dello script permesse quindi deve esserci la spunta verde dopodiché fate applica modifiche e uscite dal gioco perché per mettere le mod dovete farlo a gioco chiuso dopodiché all'avvio successivo vi compariranno appunto per scaricare questa mod dunque andate su questo sito qua io vi lascio il link nell'info box in descrizione quindi se voi cliccate su quel link vi porta a questa pagina che è una pagina di una creatrice di mod americana che è la stessa da cui ho scaricato la mod dell'epografia che vi ho fatto vedere in un altro video in questo caso la mod la trovate sotto il nome social activities quindi visto che tutte queste mod stanno in ordine alfabetico eccola qua sta un po' giù la numero 136 social activities quindi ci cliccate sopra e vi apre la pagina relativa a questa mod ecco qua qua vi spiega un pochino come funziona in inglese ovviamente perché è la creatrice americana però è abbastanza semplice comunque ve l'ho fatta anche vedere in gioco come funziona vedete che alla fine di tutta la descrizione trovate anche ecco qua la lingua in cui è stata tradotta la mod vedete che c'è anche in italiano infatti la mod abbiamo visto che è anche già in italiano a questo punto andate a scaricarla quindi su download io scarico con questo file sim file share vi porta su questa pagina voi fate download ed ecco qua che mi ha scaricato la mod a questo punto che dovete fare uscite da da internet e andate a prendere il file che avete appena scaricato quindi io me lo trovo nella cartella sul mio computer chiamata download eccolo qua lo trovate sotto forma di file compresso quindi dovete avere un programma tipo winzip o winrar per estrarlo per cui ve lo portate qui sul desktop dopo di che come fare per inserire questa mod nel gioco andate nel percorso di The Sims 4 ovvero andate su documenti poi Electronic Arts The Sims 4 e vi si aprono una serie di cartelle e voi dovete inserirla nella cartella chiamata mods quindi aprite questa cartella vedete che c'è un file chiamato resource mi raccomando non toccatelo questo lasciatelo qui perché altrimenti non vi legge le mod quindi che cosa facciamo semplicemente prendete il file scaricato e lo mettete in questa cartella mods a questo punto però io vi consiglio di crearvi una sottocartella che io nominerò appunto attività sociali perché si chiama così questa mod almeno mi ricordo che questo file corrisponde a questa mod così se un giorno la voglio togliere perché mi dà qualche problema al gioco o perché mi sono stufata semplicemente io elimino questa cartella e faccio in modo molto rapido quindi il file lo dovete estrarre per cui io lo estraggo con withrar ed ecco qua che mi compaiono questi file e i file importanti sono questi due in particolare quindi .package e .script questi qua tipo update history e come installare la mod non servono quindi se volete li potete anche cancellare però importanti sono questi due file e questo è tutto ragazzi vi ho fatto vedere come funziona questa mod in vivo vi ho fatto vedere anche come scaricarla spero che vi sia piaciuta questa chicca che vi ho mostrato e appunto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate noi ci rivediamo presto nei prossimi video ciao 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 ciao